Luca Spirito su Russo, ancora Russo, palla lì su tre metri, Baranovic la spinge, Starovic non tocca a terra, Monza che può di nuovo contraattaccare con Ferais, la palla palla, adesso non è la metri capo di Verona, Sander c'è il muro, c'è anche la difesa di Zingel, di nuovo Verona, non è ancora caduta la palla, Reich due volte e la seconda è quella buona, 19 a 18, applausi per tutti, applausi soprattutto per Reich direi.